Benvenuti a minuto 91, anteprima della partita che si giocherà domenica, ore 15, Udinese. L'Udinese giocherà con forse un 4-3-3, con bizzarri importi. Difesa, Wittmer, Danilo, Samir e Atli Annan. In centrocampo, invece, Barak, Balic e Janto. In attacco, De Paul, Massi Lopez e Benza. Indisponibili c'erano Preston, Rami e Larsen. E' un po', diciamo, possiamo dire che è più in panchina che altro. Cagliari, invece, giocherà con forse un 3-4-1-2. Raffael in porta. In difesa, Pisacane, Andreolli e Cepitelli. In centrocampo, Faragò, Varella, Cigarini e Ionita. E' Padoin. Invece, Padoin, dopo l'attacco, dove sarà Pavoletti e Sau. Indisponibili d'Aiola. Le statistiche sono, come dicevamo, Cagliari è andato a reti 12 volte nelle ultime 5 incontri con l'Udinese in campionato, avendo realizzato solo un gol nelle precedenti 6 sfide. L'Udinese è rimasta imbattuta per 21 delle 22 partite interne con Cagliari in Serie A. L'Udinese ha vinto le ultime 2 sfide di campionato di programma arrivavano a 3 successi costituzionali in Serie A dal dicembre 2016. Che dire? Io spero che sia una partita interessante. Giocata a viso aperto. Giocata, e spero, in una vittoria per l'Udinese perché ha bisogno, è stata ferma nella 12esima di campionato che si recupererà in gennaio con la Lazio in casa a Roma. Io spero che l'Udinese dia uno schiaffo, una botta di grazia, un qualcosa in più che dica ci siamo e ci siamo anche noi. e dando anche un buon salto per tornare a essere meglio di prima, a dare un colpo di voglia di fare. Non tanto per dire tanto questo e tanto quell'altro e dopo facevo una figura di N. Io spero tanto che ci sia una vittoria. Io sul 60% spero una vittoria. il 20-30% sul pareggio, il 10% sulla sconfitta. Io spero la sconfitta di no perché sono già stufo di vedere troppe sconfitte e non vi sia già troppe. Io spero in una vittoria. Il pareggio ci può anche stare, però guardiamo sempre la classifica che è molto importante in questo momento. Io spero bene per l'Udinese, spero bene che ci sia una vittoria. Speriamo, sarò molto interessato anche sul derby capitolino tra Roma e Lazio. Io mi dispiace dire, ma ti farò per tutte e due perché mi piace vedere e mi piace il gioco che stanno giocando tutte e due le squadre tra Roma e Lazio. Vedremo il campo di quei 95-96 minuti che si giocano e vedremo che cosa succederà, che cosa verrà fuori. Speriamo bene. Io vi auguro un buon weekend a tutti voi. Vedremo lunedì con il risultato del minuto 91 post partita tra Udinese e tra Udinese e Cagliari. Vedremo. Io da Marco Attutto di A2PGiorDest R21 Instagram Radio vi saluto a lunedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti.